Il modello PORNO TK Forno della classe economica ma non per questo assolutamente non efficace Caratteristiche del forno Controllo elettromeccanico Possiamo anche in questo caso regolare la temperatura sia come cielo che come platea singolarmente quindi separatamente Ci avvediamo della temperatura, della potenza espressa dalle resistenze specifiche o di cielo o di platea Nel momento in cui abbiamo l'accensione della spia che rileva che la resistenza sta funzionando Le caratteristiche interne di questo forno sono un piano reprattario Una cassa in acciaio illuminato Le resistenze a vista del cielo Un unico rilevatore di temperatura Che possiamo andare a leggere sull'esterno Illuminazione protetta Grande efficacia nella cottura Andremo a cuocere contemporaneamente In una camera La classica pizza al piatto E sulla camera sottostante Dei dolci Dei dolci in teglia Procederemo alla cottura della pizza in una camera E di un dolce, quindi delle sfoglie ripiene alla nutella Per quello che riguarda la camera superiore Sono pronte anche le sfoglie come abbiamo detto I minuti di cottura sono stati sei e mezzo Abbiamo delle sfoglie alla nutella Molto semplici Anche nella cottura A questo punto inseriamo una crostata Con la stessa impostazione di temperatura Che abbiamo utilizzato nel prodotto precedente Nelle sfoglie alla nutella Avrà un'esigenza di cottura leggermente più lunga Ma sicuramente sarà un risultato soddisfacente Siamo giunti alla fine della cottura della crostata Cotta in circa dieci minuti A una temperatura di 230-240 gradi Grazie a tutti